Allora, a fine del 2015 nelle carceri italiane c'erano 52.164 detenuti. Di questi il 34%, cioè più di uno su tre, è in attesa di una condanna definitiva. Sono 8.500, cioè il 16%, in attesa addirittura del primo grado di giudizio. A questo si aggiungono 9.262 persone che attendono invece la condanna definitiva passata in giudicato. Quindi sommati abbiamo il 34% dei detenuti che non sono condannati in via definitiva. Questo per dire abbiamo migliorato la situazione rispetto al 2008 per i provvedimenti assunti dai governi in questi anni. Perché nel 2008 addirittura la percentuale era del 51% degli allora quasi 60.000 detenuti ancora in attesa di giudizio, cioè prima di una condanna passata in giudicato. Però restiamo in questa situazione. Ricordiamocelo sempre, quando diciamo galera, galera, galera. La fotografia delle carceri italiane resta questa. In via di miglioramento, ma molto graduale, lontano da quello che dovrebbe essere la condizione di un paese civile. Allora, chi sono i due ospiti di oggi? Grazie a tutti.